Ciao a tutti ragazzi e bentornati su TheGuardians. Io sono Splash e come vi ho promesso nel video di ieri riguardo il ritorno finalmente del Gyalaron, oggi andiamo ad analizzare lo streaming di Bungie di ieri effettuato su Twitch per quanto riguarda Destiny Rise of Iron. Anzitutto la versione italiana si chiamerà Destiny i Signori del Ferro e la release sarà esclusiva per PlayStation 4 ed Xbox One, infatti non sarà disponibile sulla vecchia generazione di console. Il costo per il territorio europeo sarà di 29 euro e 99 centesimi ma per poter giocare con questa nuova espansione sarà necessario possedere anche il re dei corrotti ovvero l'ultima uscita per quanto riguarda Destiny. Però comunque tranquilli, per chi giocasse sulla vecchia generazione di console potrete anche portare i vostri personaggi sulla current gen magari acquistando una PS4 o una Xbox One. Questa è una domanda che mi è stata posta nel vecchio video quindi ne approfitto per risponderne anche in questo video proprio a voce così siete sicuri di non perdere i vostri personaggi perché appunto saranno legati ai vostri account. In questa nuova espansione sarà presente una nuova campagna che presenterà delle missioni completamente nuove unite a cinematiche esclusive per la storia. I Bungie infatti vogliono quindi narrare una nuova storia incentrata soprattutto sui Signori del Ferro, da qui appunto il titolo di questa espansione. Saranno presenti nuovi luoghi The Pluglands, Felwinter Peak ovvero il picco di Felwinter e The Wall ovvero il muro. Sono stati mostrati tutti nello streaming con diverse immagini e sembrano tutti molto suggestivi e davvero interessanti. Così come sarà anche presente una nuova zona social che dovrebbe essere in cima al picco Felwinter e che a detta degli sviluppatori dovrebbe essere anche molto diversa rispetto alle altre zone social che abbiamo già amato e conosciuto nel gioco. Avremo anche un nuovo ride di cui credo però parleranno maggiormente durante le tre che si svolgerà nei prossimi giorni. Inoltre avremo dei nuovi assalti uniti ad altri aggiornati per questa espansione e anche nuove pattuglie ed eventi pubblici nella nuova location Pluglands. Aggiunte anche per il crogiolo che presenterà delle nuove mappe, una nuova modalità e delle nuove feature che poi ci mostreranno nei prossimi giorni probabilmente alle tre. Oltre al nuovo ride ci sarà anche un ulteriore significativo innalzamento del livello di luce dei guardiani così lo hanno descritto gli sviluppatori proprio con questo termine significativo. Non ci hanno però detto il numero esatto del livello di luce che potremo raggiungere effettivamente con questa nuova espansione. In tutte queste attività e luoghi nuovi comunque avremo anche una nuova tipologia di nemici da affrontare. Dei caduti intaccati da una particolare tecnologia mutati nelle fattezze e nei movimenti. Vedremo cosa ne uscirà fuori. Saranno anche presenti delle nuove armi ed armature, alcune mostrate in foto e in video. E ci sarà anche un manufatto ad ascia come quello ad esempio visto nel video da Lord Saraldin oppure in alcune immagini imbracciata da un titano completamente infuocata. Appunto essendo un manufatto una reliquia probabilmente sarà inserita in qualche missione o in un assalto ma non sarà un'arma pesante vera e propria da poter utilizzare quando vogliamo. Da una parte peccato però in generale figata incredibile. Per concludere come detto nel video di ieri chi prenota il gioco otterrà il Gjallarorn di ferro che finalmente torna per questo terzo anno di Destiny in colorazione nera. Ma attenzione piccolo appunto perché tutti i guardiani potranno avere il Gjallarorn normale tramite il completamento di un'impresa fatta a step che penso sarà molto simile a quella del simulatore dormiente. L'esclusività del preordine rimane solo ed esclusivamente per quanto riguarda la versione black dell'arma. Potremo quindi finalmente riutilizzare tutti questa arma iconica dell'universo di Destiny. Inoltre viene anche accantonato il drop di cui molti si erano lamentati nell'anno 1 di Destiny. Quindi ripeto che tutti potremo utilizzare il Gjallarorn anno 3. Bellissimo! Bene ragazzi io con questo ho concluso. Spero di essere stato il più chiaro possibile, di avervi tolto qualche dubbio e anche di avervi soddisfatto con tutte queste informazioni. Alla fine ci hanno solo mostrato qualcosa, non hanno detto alcune cose, probabilmente ovviamente se le terranno per le 3 che ci sarà fra qualche giorno e comunque è giusto così, ma ovviamente noi per quei giorni vi terremo assolutamente informati su tutto con i nostri video, con i nostri post su Facebook, con i live su Twitch eccetera. Quindi qui sotto in descrizione vi lasciamo tutti i nostri contatti, i nostri link appunto alle pagine e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!